Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori tastiere per pc Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento E adesso passiamo alla top 3 delle migliori tastiere per pc Quindi cominciamo con la migliore tastiera di gioco da gaming con questo Razer Huntsman Ora in una grande promozione con il 47% di sconto Ha un aspetto fantastico con i suoi tasti retroilluminati Questo schema di controllo vi dà un vantaggio immediato e considerevole rispetto alla concorrenza con questi tasti optolineari Questo sistema offre una risposta istantanea con un'attivazione ottica di 1 mm Che registra ogni battuta di tasto con la luce Grazie al trattamento BPT a doppia iniezione La tastiera Razer offre un'enorme resistenza all'uso pesante Ha una memoria interna che riceve e memorizza le tue impostazioni personalizzate Huntsman Razer offre anche la possibilità di salvare fino a 5 profili utente Poi troviamo la migliore tastiera wireless con questa Logitech MX Keys in vendita con il 32% di sconto I progressi tecnologici hanno portato a molte innovazioni nel campo dell'informatica E infatti è nata l'avanzata tastiera illuminata senza fili di Logitech È dotata di Bluetooth e di un connettore USB È compatibile con tutti i dispositivi Windows, Linux, Apple e Android I suoi tasti soft sono notevolmente sensibili E grazie al suo sistema di illuminazione la tastiera wireless Logitech Permette all'utente di combinare comfort e precisione E per finire ecco la migliore tastiera ergonomica con questa Logitech Ergo K860 Questa tastiera è adatto a Windows 10 e oltre ma anche a Mac OS e Linux Può essere collegata via Bluetooth ma anche via USB La forma curva della tastiera migliora La postura di digitazione e riduce la tensione muscolare su polsi e avambracci I tasti seguono la forma delle dita e la digitazione è silenziosa e perfetta Il polgiapolsi curvo fornisce il 54% in più di supporto e riduce la flessione del polso del 25% rispetto alle tastiere standard È anche dotata di piedi basculanti Il tastierino numerico e la possibilità di connettersi a tre dispositivi Allo stesso tempo migliorano l'ergonomia della tastiera Ecco grazie per aver seguito questa top 3 Spero che ti sia stata utile Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale È sempre un piacere Ti ricordo anche che ho messo il link dei prodotti con le migliori offerte nella descrizione Puoi vedere tutto ciò E su questa nota ti dico a presto per un nuovo video